Per il progetto del Flipper a tema sociale noi abbiamo deciso come gruppo di lavorare su Foroshan, che è una fondazione che si occupa del recupero della plastica negli oceani. Ci siamo immaginati come se Foroshan ci commissionasse una campagna di sensibilizzazione e noi l'abbiamo fatta attraverso il Flipper, quindi attraverso la modalità giocosa del Flipper sensibilizzare quali sono i principi stessi della fondazione. Grazie a tutti.